Ciao, vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potown Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online, sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail, inoltre con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao, benvenuti in questo nuovo video, io sono Ricca e oggi siamo qua con un mazzo che sembrava andare male e invece starà diventando il più forte di tutti. Prima di andarvi a far vedere chi è, mi raccomando lasciate un bel mi piace qua sotto e commentatevi con il prossimo mazzo che volete vedere. Questo mazzo nell'ultimo torneo ha fatto veramente lo sfracello, con la nuova espansione ha tirato fuori tante carte che lo aiutano e è arrivato secondo con Ivanoff che è un grande campione, un grande Pokémon Champions. E che dire, è un mazzo che a me non riesce molto a giocare perché è un po' complesso, c'è tanta roba da starci dietro e non è proprio il mio mazzo, però oggi lo portiamo perché per dovere di cronaca ve lo meritate. Guard X, lo conosciamo in tanti, fa 190, è sicura dalle condizioni speciali, bla bla bla, 3-10 fase 2 e con la sua abilità possiamo assegnare quante energie vogliamo della pila degli scarti ai nostri Pokémon. Psyco, ovviamente se lo facciamo gli mettiamo due segnalini danno, quindi anche qua dobbiamo stare attenti. Ovviamente i Pokémon non possono andare K-Po per mezzo di questa abilità, quindi non defungeranno. Visto che andiamo a mettere dei danni, Monkey Dory può essere interessante sia per levarli sia per spostarli. Quindi è un po' al posto di Alakazam, abbiamo messo Monkey Dory. Questo qui, se ha delle energie buie assegnate, sposta da uno dei miei Pokémon fino a 3 segnalini danno, ok? Su un Pokémon che mi pare, quindi posso andare a farmi dei K-O mirati, se non ho fatto già prima del K-O magari ci manca 30 danni, boom! Gli faccio K-O e poi faccio l'attacco. Oppure posso mettere danni su tutti i Pokémon piccolini e quindi poi con più Monkey Dory, con più abilità, posso fare dei K-O. Comunque, vedete voi. Coda Urlante! Qui entra una meccanica che è fighissima. Andiamo sotto dei premi, ok? Cerchiamo, individuiamo i Pokémon che hanno più ritirata e che hanno anche meno energie. Mettiamo a caso un Bibarel, no? Che è un supporto. Counter Catcher su Bibarel, Coda Urlante, lo carichiamo e iniziamo a fare i danni sui Pokémon dietro. Lui ci farà boss, ritirerà, farà qualcosa. Noi cercheremo sempre di fare questa tattica qua, ok? Perché, secondo me, è forte. Lui fa 20 danni a uno dei Pokémon del mio avversario per ogni segnalino danno presente. Quindi se ha 80, lui fa 80 per 2, che sono 160 in più, con l'amuleto Coraggio, gli andiamo a dare 50 punti vita in più e quindi caricarlo ulteriormente e fare un sacco di danni. Ma la carta che più ha, diciamo, stramolto questo mazzo è Iper Aroma. Chi non è romano perché non è Liber Aroma, ma è Iper Aroma. Questa bombettina dice che possiamo cercare nel nostro mazzo fino a 3 carte Pokémon di fase 1. Quindi cosa ci andiamo a cercare in un mazzo con garde? Tutti Chirlia. Chirlia, Straforte, Scarta 1, Pesca 2 e iniziamo a macinare. Come se non ci fosse un domani. Se non riusciamo così abbiamo anche il macchinario tecnico evoluzione, quindi possiamo già evolverli come vogliamo. Questo è il mazzo, non c'ho tantissimo da dire, tanto che va provato. Sta facendo molto bene perché è un mazzo molto duttile. Può attaccare la panca, può fare danni davanti. Non vi ho fatto vedere Drifloon. Drifloon anche lui è quello che pesta perché fa 30 danni per ogni segnale o danno presente su di lui. Quindi gli mettiamo l'amuleto, fa ancora più danni. Cioè veramente, questo mazzo possiamo fare di tutto. Possiamo attaccare la panca, spostare i danni, attaccare i digri di Gardevoir, attaccare di Drifloon. Possiamo attaccare, anzi bloccare le abilità con Crinealato. Abbiamo modo di bloccare le abilità anche con Klefki. Quindi signori, abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta. Questo signori è Garde. E andiamolo a vedere? Direi proprio di sì. Se ancora non sei iscritto, iscriviti. Perché così quando escerà un mio video, tu sai già che ci sta. Quindi tu lo vedi, tu godi, tu metti mi piace, tu dici bataricca come l'è fresco e ci si diverte tutti. Detto questo, andiamo. Primo versario di oggi, siamo contro Avocciutz. Vediamo se esce testa e uscita croce. Giustamente se devi scegliere un lancio esce sempre l'altro. Vediamo cosa deciderà il nostro amico. Iniziamo noi, ok. Allora, come mano, poteva andare molto peggio. Però, boh, mettiamo Klefki che blocca un po' le abilità dei base. E vediamo che cosa possiamo fare. Lui gioca Dragapult, la versione con Bibarel. Beh, se avesse giocato quella con i confi, io l'avrei bloccati. Ok, peschiamoci la carta in più. C'è un altro Ralz, perfetto. E lui parte di Charizard Lucente. Penso la peggior scelta che potesse fare. E farei Anfora sullo scenario. Uno e due. Facciamo lo Stasones. Ci prendiamo. Quasi quasi mi prendo lo Scimmione. Anche se al momento non mi serve a niente. Però metto Greninja. E giustamente Klefki blocca anche le mie. Giustamente un blocco Birichino. Questo me lo scordo sempre. Perché ho la testa che è davvero lurida. Però comunque dopo ci servirà. Ci potrà servire. Intanto l'energia la mettiamo lì. Dopo abbiamo Chirlia. Dopo abbiamo Chirlia. Possiamo scartare e pescare. Ancora lo Stasones. Lui ci mette Luminion. Vediamo che aiuto va a cercarsi. Lo Stasones. Eh, giustamente non si va a cercare nulla. Perché Klefki l'ha bloccato. Incredibile. Me l'ero scordato anch'io. Ragazzi, ho una testa. Klefki non lo uso mai. Quindi mi scordo sempre. Mi scordo sempre. Giustamente anche Charizard. Se volesse attaccare. Ha bisogno di 8000 energie. Fa la Ultra Ball. Pigeot ed energia. Allora, si va a prendere. Dribli. Intanto qua stanno facendo buchi nei muri. E Kissara. Questa Kissara. Sì, Pesco 6. Magari mi dà roba buona. Sì, il Chirlia me lo dà sempre. C'ho l'Iper Aroma. Che comunque, vabbè, me ne darebbe altri due. Poffing of the Heart. Il bordello c'è qui. Ok. Riuscissi a caricare Coda Urlante in tempo, scartando le varie energie, buttargli giù con la roba, sarebbe molto divertente. Altra energia. Io potrei fare Iper Aroma. Perché così libero. Libero un attimo. Con lo Stasones mi posso prendere Coda Defecante. Questa gliela metto. Poi, facciamo Iper Aroma. Perché sennò poi dopo non lo usi più. Non lo usi più. Quindi o lo usi adesso o non lo usi mai. Quindi ci andiamo a prendere altri due Chirlia. Così non li andiamo a pescare. Uno si mette. L'altro pure. Poi scartiamo energie su energie. Così dopo se troviamo Gardeviors lo andiamo a mettere. Qui si scarta ancora e si pesca. Vai così. Un altro Ralse. La Minor Ball. C'abbiamo Piporeina. Facciamo l'amuleto sulla Coda. Piporeina. Ci possiamo prendere il Macchinario Tecnico e l'Anfora. Tanto sicuramente dopo mi uscirà il Coso. Gardevoir anche se lo vado a prendere di Klefki. Questo scartiamo. Ci prendiamo 1 e 2 perché così dopo posso dare l'energia. Abbruio. Su Monkey. Eccolo lì. E a questo punto anziché fargli 10 gli faccio evoluzione. Così mi scelgo solamente un Pokémon da evolvere. Eccolo lì. Non mi interessa averne due. Questo siamo a posto. Abbiamo la Scimmia. Abbiamo Garde. Abbiamo energia negli scarti. Lui è pronto. Però dopo lui ci fa. Perché io l'ho visto. Aveva Caramella Rara. Pigeone. E mi sa che ci fa Pigeot. Mi sa che ce lo fa Pepe Reina. Caramella Rara e Skateboard. Luminion. Attenzione. Usa sigillo terrestre. Per andarsi a prendere qualcosa di veramente. Veramente. Misterioso. Caramella Rara. Eccolo lì. Bada come lo evolve. E adesso signori è tosta. Perché io inizio a picchiettargli Pigeot. Che potrebbe essere una cosa intelligente. Oppure di picchio i dripi. L'unico problema è che lui adesso con Pigeot. Dopo potrebbe prendersi Switch. Ritirare. Attaccare. Ricerca rapida. Vediamo. Vediamo. Passa il turno. Non assegna energie. Non fa niente di relativamente greve. Quindi continuiamo a scartare. Energie su energie. Si pesca. Ok. Qui possiamo bellamente. Dare delle energie sulla coda che urla. Ne abbiamo solo quattro. Ma a breve ne avremo cinque. E intanto qua comunque iniziamo a caricare. E vediamo un po' quello che voglio fare. Vediamo quello che è più pericoloso. Più giusto fare. E io attualmente faccio 160. Che non è una grandissima quantità di danno. Però potrebbe diventare di più facendo così. E qui possiamo... Che sarebbero 160. Non farei KO alluminium. Che comunque è succoso. Sono due premi. E... Quest'altra gliela posso anche dare. Facciamo... Ah ne abbiamo due. Una. E due. Lui attualmente il massimo che può fare è 240. Due 40 che non fanno KO Pigeot. Però... Se io faccio Munchidori. E gli sposto del danno su Pigeot. Che comunque gli abbasso un pochino la vita. Mi sarà poi più facile fargli KO dopo. Mi vado a prendere il KO sulluminium. Che sono 180. Belli tranquilli. Di saggina, di saggezza. E ci prendiamo questi due premi. Kirlia e Pipo Reina. Kirlia e Pipo... Vabbè. Ok. Altro Drippy. E adesso... Se non riesce a ritirare sarebbe molto interessante continuare a pestare come l'uva i Pokémon della panca del mio avversario. Caramella rara. Attenzione. Dragapulta Exo. E vediamo se riesce a dargli quantomeno energia. Perché lui nelle giocate che ha fatto non è riuscito ad assegnare nulla. E non è gran che... Sicuramente una la mette adesso perché... Voglio dire... Qualche carta tu l'hai vista. Noi abbiamo anche il Drifloon. Pronto a picchiare. Abbiamo l'amuleto. Sei energie su Coda Urlante. Boss Order Buggato. Sugre Ninja. E qui signori... Come lo ritiro? Non ho energie. Non ho energie. O la becco adesso... No. E... Ci ha cotti il riso signori. Ci ha cotti il riso. Pepe Reina. Non ho modo di ritirare. Perché ho giocato... Quell'altro affare. Ho solo due energie. E... Brutta storia signori. Brutta storia. Prendiamoci un Contra Chiappa. Che non mi serve. Ma lo libero. Facciamo... Chirlia. E... Buttiamo via un Chirlia. Vediamo se peschiamo l'energia. No. Niente. Energia negli scarti non ne ho. Fare Munchi d'Ori non ha senso. Terminiamo il turno. Questo mi fa molta rabbia. Perché mi ha, diciamo, fatto la mossa che... Eh... Gli ho fatto io. Mi ha bloccato. Ora lui con Pidgeot si va a settare le energie su quell'affare. Ricerca rapida. Ricerca rapida. Ok. Energia tripla sbrindi Antani. E ora cosa ci fa? Skateboard di salvataggio su Dragapult. Chissara. Attenzione. Vediamo se riesco a trovare le ultime due energie tra queste quattro carte. No. Ma c'ho lo scenario del croff. Turun turun. Turun turun turun. Stiamo arrivando. Spero che non ritiri. Se non ritira è una goduria assurda. Ultrapalla. E adesso inizierà ad evolversi quei drivi perché sono lì che fanno la muffa. Tra un po' sono maggiorenni. Contracchiappa e Dragapult X. Per prendersi bipare. Già quello non l'abbiamo neanche calcolato. Quel Bidof malero completamente scordazio. Alacra incisivi. Pesca 2. Ancora Ultraball. Scarta energia e Pidge. Per prendersi Drago Caccola. Attenzione. La sua abilità è veramente figa. Perché comunque gli fa girare un pochino il mazzo. Guarda la prima. Insomma. Non è malvace. Una la guarda. Una la mette sotto. Una la mette in qualche altro. Buco per Tusello. E mette la cintura su Pidgeot. Questo boh non so per quale motivo. Forse vuole fare 120. Ma. Mamma mia. Mamma mamma. Scenario. Leviamo il ninja. Mettiamo la coda che urla. E. Facciamo. Chirlia. Voglio scartare la Ultraball. Niente di interessante. E. E. Urlo ruggente. Facci ruggire. Sono 180. E li voglio sparare su Pidgeot. Potevo farli su Bibarel. Sì. Ma tanto con Pidgeot si sarebbe preso. Carte che vuole. Bibarel. Sì. Pesca due. Però una volta che io ho hittato. E fatto KO. Tra poco. Se mi riesce. Pidgeot. Lui è un pochino più in difficoltà. Poi c'ho Bibarel come hitt. Mi piacerebbe poi andare ai. Cioè se io faccio due KO. Guarda il bastardo sullo scenario. Su Charizard. Ah se levava Pidgeot si salvava quantomeno due premi. Però. Però. Ah rimette anche Charizard. Io non l'avrei rifatto. Perché comunque alla lunga. Se mi fai più KO. Io posso anche pensare. Posso anche pensare. Di farti poi di nuovo. Il. Come cavolo si chiama. La pistolina. Il contracchiappa. Ricerca rapida. Io c'ho ancora. L'amo. Si pesca una carta con Pidgeot. Energia a fuoco. E ci picchia. Spettralmente. Ci fa 200 danni. Sparge 6. Vediamo dove vuole spargere. Klefki. La scimmia. E sulla scimmia. Diciamo che quelli sulla scimmia. Glieli posso levare. Mette anche dei danni su Kirlia. Ok. E 200 danni. Grossi. Come una house. Qui adesso. Dobbiamo giocarcela bene. L'unica cosa. Che mi viene in mente. È di mettere davanti. Klefki. Poi vedere un attimo. Cosa fare. Per fare un attacco. Visto che ritira uno. Glielo possiamo dare energia con guarde. Energia bui. Ok. Lui confonde. Fa 60. Ma. Giustamente. Finché c'è Klefki davanti. Non posso neanche usare. La scimmia. Quindi. Dobbiamo un attimo fare la mossa giusta. Scartiamo Ralts. C'è la Minor Ball. Ma non abbiamo il Pokémon che ci serve. Abbiamo solo Drifloon. Che comunque potrebbe fare del male. Non abbastanza. Però. Ci proviamo. Ci proviamo. Facciamo anche Chissara. Così vediamo se peschiamo un Amo. Qualcosina. Olè. L'Amo c'è. C'è il Contracchiappa. Buono. Non abbiamo trovato. Però quello per dare più vita. Quindi. Intanto facciamo la Cannona da Pesca. Coda Urlante. E. Ci prendiamo anche 1 e 2. Le energie le lasciamo lì. Poffin del Cuore. Vediamo dopo. Intanto Garde. Intanto un'energia la diamo davanti. Poi facciamo 1. Tanto dopo comunque defungerà. Però. Una prima botta. Gliela possiamo dare. Se poi ci riesce Coda Urlante. Possiamo mettere K.O. Sia Pigeot. E poi pensare anche a Dragapult. Poffin. Ci possiamo prendere mano a Feralz. Ci abbiamo Coda Urlante. Lasciamo fare. L'ho fatto un po'. Per rimischiare il mazzo. Perché almeno. Vediamo se mi esce le carte. Che mi hanno messo sotto. Con la Kissara. Perché avevo delle bolle. Monkey Doki. E qua leviamo quelle della scimmia. Li possiamo mettere anche su Pigeot. Pigeot. Ha comunque 70. Quindi un paio di giri di scimmia. Andrebbe K.O. Quindi proviamo. Mettiamo gli eli dietro. Tanto comunque. Danni davanti. Danni dietro. È quello che posso fare. Ti si fa 180. Che non sono pochi. Non sono pochi. Quindi ho comunque l'opzione di caricare garde. Attaccare con lui. E attaccare anche con Monkey Doki. Che fa 60 e confonde. Così lui magari è costretto a ritirare. Può arrischiarsi un attacco. Ho un boss. Quindi insomma. Non mi lamento. Ho due carte ma. Siamo più o meno settati. Quasi ottati. Si è preso una carta. Con Pigeot. Eccoli. Contracchiappa. E vediamo che cosa ci mette. Per farci 200. Secondo me mette garde. Mette la scimmia. Perché ha visto che Pigeot. Lo può prendere in quel posto oscuro. Picchiata. Spettrale. Ci fa 200. E ci farà K.O. Anche Drifon. Infatti. E questo per davvero non ci voleva. Non mi aspettavo questo contrachiappa. Però. Chiappa. Chiappa. Si è acchiappato noi. Si è acchiappato noi. In un posto non bello. 10 danni su Clef. 200 danni sulla scimmia. E lui si è preso due premi. Dos Premios. Ok. Io non so se lui abbia degli switch ancora. Perché potrei fare contrachiappa su Bibarel. Vale. Su Charizard pure. Dobbiamo provare. Dobbiamo assolutamente provare. L'energia c'è. Ok. Coda urlante. Lo possiamo prendere così. Visto che ce l'abbiamo. Sfruttiamolo. Poi. Facciamo. Contrachiappa. Su Charizard. E qui dobbiamo scegliere bene. Purtroppo non avendo la scimmia. Mi tocca secondo me fare K.O. Pigeot. Perché così. Cioè con Pigeot. Sono sicuro che lui. Mi va a prendere. Boss. Ok. Se ce l'ha in mano. C'ha 8 carte. Questo non lo posso sapere. Però. Quanto meno. Gli levo la certezza. Che lui lo prende. Di forza. Aspettiamo così. Una gliela lascio. Per il meme. Scartare boss con Kirlia. È bruttissimo. Ritiro. Mettiamo coda urlante. Ci facciamo questi due premi. Assolutamente sì. Urlo ruggitivo. 120. 120. Attenzione. E 1 e 2. Olè. Cresselia e cannone. Perfetto. Canna da pesca. Anche per il nostro amico. Avocuz. E si è rimesso. Luminion. Secondo me c'è ancora un bel boss. E ce la vuole chiudere. Ce la vuole chiudere. Draclock. Secondo me non ha switch. Perché anche prima. Ha faticato un sacco. A levarsi il Charizard. Charizard. Diciamo che lui ha tutti i Pokémon che ritirano uno. Eccetto Charizard e Bibarel. Quindi volendo uno. Due switch. Potrebbero anche starci. Lost Azones. Si prende la PG. Si prende Cleffa. Ok. Cleffa è figo perché. Se avesse avuto la scimmia. Gli avrei fatto un K.O. secco. Però la scimmia al momento non ce la tengo. Anche se potrei fare canna da pesca. Lost Azones. Ma vediamo. A parte che non ho l'energia buio. Quindi non posso fare niente. Dovrei riprendermi. Blah blah blah. Sarebbe troppo lento. Passa il turno. Passa il turno. Se io assegno. Questa di qua. Ok. E io attacco dietro. Giusta osservazione. Giusta osservazione. Mi scordo sempre. Che i Pokémon X. Hanno il Teracristio. E quindi non subiscono danni. Zio bovino. Mi scordo sempre. Ma perché io mi scordo? Cioè raga. Mi ci vuole l'Omega 3 iniettato nei neuroni. Nei neuroni. Cioè io non è che non so giocare. Non è che non so giocare. Che parlo. Mi distraggo. Dovrei fare i video muti. Ma mi fanno schifo. Bene. Comunque. Non è che è cambiato molto. Non cambiava assolutamente niente. Abbiamo risollevato lo stesso questa partita. Ci prendiamo le due energie con garde. Proprio di qui. Avevo il boss in mano. Lui non mi ha fatto niente. Lui ha già dato la sua partita. E va bene di così. Va bene di così. Andiamo. Bossaro. Su questo dragapulta. E 190. E ce la portiamo a casa. Stavolta ci dà complimenti. Perché si è fatto la mossa giusta. Signori. Si è fatto la mossa giusta. Ultimi due premi. Che erano. Pepe Kisara. Per forza non usciva gli aiuti. Sono tutti nei premi. Signori. Andiamoci a trovare. Un altro avversario. Ultimo avversario di oggi. Wargame. PL. Sarà per. Polonia. Ed è uscito a croce. Allora. Iniziamo noi. Vediamo un po' se riusciamo a ingranare bene. Che boh. Fofatica. Fofatica. E qui ci abbiamo crinalato. Che comunque. Non è una pessima partenza. Magari. Gli blocchiamo un po' di abilità. Dopo abbiamo Munchidori. Ma aspettiamo un attimo. Gioca a pro. Abilità 0. E. Pofin del cuore. Top. Top. Deckata. Doppio Kirlia. E ok. Doppio. Doppio Ralse. Scusate. La scimmia la possiamo mettere. Termino il turno. Dopo abbiamo Kirlia. Pepe. La pescata. Non sarebbe male. Anche lui. Pofin of the heart. Si è messo Snorant. E Manafi. Allora. Non conosco questo mazzo. O meglio. Greninja X. Non l'ho mai guardato. Me lo avete consigliato. Lo farò. E. Quindi non l'ho ben guardato. Nello specifico. Che cosa faccia. Ma lo scopriremo. È la prima volta che me lo becco contro. Quindi. Scopriamolo. Lì c'è un Greninja X. Di tipo Acqua. Energia base. Su Frochi. E se esce Croce. Non ci fa niente. Balzo Prova. E giustamente esce Croce. Perché questi attacchi. Sono talmente inutili. Che non servono veramente a niente. È il nostro turno. Abbiamo una bella Minor Palla. Che possiamo anche aspettare. Perché facciamo Peepo Reynens. E con Pepe. Io mi prenderei. L'Anfora. E l'Evoluzione. Ok. E se io adesso faccio Chirlia. Minorball. E giustamente non ho Greninja. Perché questo gioco mi vuole veramente bene. Vuole bene. E mettiamo Cresselia. Non lo so. Mettiamo Driflun. Mettiamo un'Antorals. Mettiamo Driflun. Che può far del male. Facciamo Anfora. Su Manafi. Non penso serva. Poi facciamo 1 e 2. E Chirlia. Can I use? Ok. Non mi dava la spunta. Quindi pensavo fosse bloccata qualche abilità. Ma non c'è. Altro Chirlia. Ok. E vediamo cosa possiamo scartare. Scartiamo la Ultra Ball. Peschiamo. C'è Chissara. C'è la canna. L'energia mi servirebbe su Monkey Dory. Diamogliela sulla scimmia. Se ci dovesse fare del danno glielo sposto. Dopo non dovrebbe essere molto difficile evolvere Chirlia. Abbiamo comunque Chissara. Doppia pescata di Chirlia. Boile. Green Ninja X. Questo se non sbaglio era delle vecchie espansioni. Non è quello nuovo. Lui fa 120. E se il mio avversario ha già dei segni di danno. Faccio 120 in più. Quindi molto male. Non so che cosa faccia l'evoluzione di Snorant. Ma lo scopriremo. A parte che già così ci farebbe K.O. Comunque. Passa il turno. Non fa niente. Lost Azones. Potrebbe essere una cosa interessante. Però prima. E la vorrei prima scartare. Perché. C'ho già tutto in mano. Facciamo così. Non vorrei neanche dargli troppa possibilità a lui di settare. E. Facciamo Anfora. Scartiamo Chirlia. E comunque vabbè. Abbiamo già abbastanza. Doppia. Energia. Questa. Questa la diamo davanti. Mettiamo anche Cresselia. E faccio Chissara. Vediamo se ci esce. Garde vuole. Oh. Garde è uscito. Perfetto. Buono come il pane. Non penso di avere molte energie però da scartare. Vediamo un pochino che cosa mi è rimasto. Giusto due. Giusto due. Una. Due. La mettiamo sempre qui. Perché così. Splittiamo i danni. Lui fa 20 per. Sarebbe 2, 4, 6. Non fa veramente niente. Spostiamo del danno. Spostiamo il danno da Cresselia. E lo mettiamo su Manafi. Termino il turno. Non voglio fare altro. Aspetto che mi faccia K.O. Crinealato. C'è Cresselia. Potrebbe essere divertente. Crinealato è lì. Farebbe 90 e 20. Ma comunque con Manafi. Non mi serve a niente. Snorant ancora. Mi fa paura questo. Sembra quel dolcetto giapponese. Che mangiano. In Giappone lì. Con il riso e l'alga. Chi sa. C'avevo coda urlante. Che non era male. Ma toccherà aspettare. Le energie non ci escono. Non riesco a scartare niente. Froslas. Eccolo lì. Se non sbaglio. Froslas. Oh Cristo Dio. Macerie. Leviamo Cresselia. Se non sbaglio. Froslas. Mette un segnalino danno. Su tutti i Pokémon. Che abbiano un'abilità. Se non sbaglio. È veramente infamello. Sia miei. Che suoi. Lui ci fa 120. Ok. Questo adesso è il mio momento. Di attaccare di Driflon. E iniziare a fargli del danno. Manto glaciale. Ok. Mi va anche bene. Perché vedete. Ti dà. A eccezione. Il giusto di Froslas. Io posso dare. Solamente. Due fottute energie. Intanto levo la stadio. Perché ho bisogno di spazio. Poi facciamo guarde. Uno. E due. E così sarebbero dei discreti danni. Con Pepe. Con Pepe non abbiamo niente di buono. E secondo me Froslas potrebbe essere anche un'arma contro di lui a doppio taglio. Perché quel mana fi alla lunga va giù. Alla lunga va giù. I danni che io mi metto. Sono ok. Sono ok. Scartiamo con Kirlia qualcosa. Il coso evoluzione. Poffin del cuore che non serve a niente. Monkey Doki. Spostiamo dei danni da garde su Manafi. Così dopo lui si prende un altro danno. Kirlia se ne prende un altro. E attacchiamo. Non sono tanti però. Quanto meno lo scalfiamo. Facciamogli questi 180. Però anche fare Ultra Ball adesso. Mi stuzzica. Scartiamo Kissara. E ci andiamo a prendere Coda Urlante. Così io dopo. Mettendolo qua. Ho già un altro Pokémon. Che può far del male. Questo lo mettiamo di qua. E facciamo 180. Perché se mi fa boss 120. Su Coda Urlante. Mi defunge. Se mi attacca. Mi fa K.O. Driflum. E ok. Io dopo gli metto. K.O. Manafi. E devo capire. Come fare K.O. Greninja dopo. Intanto energia base. Su Froki. Boss Order. What? Questo ci vuole fare boss su Greninja. Sbordellata di danno. Esatto. Esattamente. Lacerazione Torrenziale. Qui signori. Qui signori. Mette altri danni. E per ritirare. Devo avere due energie. Che non ho. Come diabolo faccio. Come diabolo faccio. Io non lo so. Usiamo la scimmia. Vediamo se la scimmia nuda balla. Gli leviamo i danni da qua per forza. Ne posso mettere tutti su uno. E ci leviamo Manafi. Così. Coda Urlante è un po' più efficace. Come premio. C'è un super martello. Che non serve a niente. Ti prego. Chirlia. Dammi qualcosa. Scartiamo il martello. Se ne pesca due. Tutte carte di M. Ma dove sono le energie? Dove sono le energie? Chi sarà? Su. E devo scartare e rimetterle. Così ti fa KO. Un'energia c'è. Magliella buio. Cosa me ne faccio? Io me. Mettiamo questo. Passo il turno. Ci mette comunque del danno. Mi dovrò far fare il KO su guarda. E regalargli due premi. Eh sì. Super canna. Froki e Manafi. Cane boia. Eccolo lì. Che se lo va a rimettere Manafi. Però giustamente. Si va a beccare il danno di Frozlas. Monkey doki. Eccolo lì. Perché è una fregatura. Ha messo la doppia sull'altro Froki. Non so per quale motivo. Forse gioca un altro tipo di Greninja. Ci mette i 40 danni su Kirlia. Giusto. Molto giusto. C'è tutti i danni di Frozlas. Eccolo lì. E Pepe. Pepe ancora ragazzi. Pepe fa male. Fa male il Pepe di Obono. Continuo a fare Pepe finché non smetterà di uscirmi. Posso fare con tracchiappa. Mettere di un Pokémon. Visto che ha tre carte in mano. Sperando che poi. Non ritiri. Gli metto sto Frozlas. Così. Nel caso non dovesse ritirare. Io snellisco un pochino di danno. Garde. Glieli mettiamo su Manafi. E cerchiamo di ributtarlo giù. Si spera. Questo do l'energia di qua. E facciamo anche Poffin. Perché visto che c'ho Ralts. Dopo l'evolvo. Metto Kirlia. Pesco. Vediamo. Se mi fa K.O. Garde. Posso uscire di Driflun. E farei K.O. Su Greninja. Passiamo il turno. Tanto ci becchiamo. Sempre i danni. È un po' come la vecchia Ara del giudizio. Quella sì che era una carta signori. Quella sì che era una carta. Ultraball. E così sì che lui non ha più carta in mano. E ha buttato via un Greninja X. Per prendersi un altro Frozlas. Se lo evolve lui si fa K.O. da solo. Su Manafi. Non so se lo ha calcolato. Passa il turno. E doppio danno. Che comunque sono tanti. Si fa K.O. Manafi. Mi regala un premio. Che è un altro Ralts inutile. È il mio turno. Ti prego. La Minor Balls. Questa Minor Balls. Gesù. Ma Gesù. Gerusalemme in fiamme. Non la sopporto. Posso dire di stare odiando il mazzo del mio avversario. Facciamo Kirlia. Buttiamo via Ralts. Se ne risca due. Non c'è la fottuta energia. Lui ha una sola carta. Quindi spero. Vivamente. Tanto dopo comunque Monkeydory mi morirebbe lo stesso. Perché doppio Frozlas. Più spostamento dei danni di Monkeydory. Non lo reggo. Klefki. Solo sui base. Quindi tanto vale salviamo garde. Per quello che possiamo. Altri danni. Manto glaciale. Dopo defunge anche Monkeydory. Il mio Monkey defunge dopo. E qua signori. Ma che si fa? Ma che si fa? Lui mi... Partita che ha dell'incredible. Caramella e skate. Attenzione. Caramella. Sugri Ninja X. E questo è di tipo lotta. Questo è quello nuovo. Molto probabilmente. Non l'ho mai visto. E non so che cosa faccia. Vediamo se ci fa molto male. Con una fa 170. Il resto non lo leggo. Perché è talmente animato. Che non si legge. Lama dello Shinobi. Fa 140 davanti. E l'avversario sceglie un'opzione. Sta scegliendo delle carte dal suo mazzo. Ok. Si è preso una carta. Ci ha fatto questo K.O. Si è preso due premi. Anzi se ne prende tre. Se ne prende tre. Perché Monkeydory defunge adesso. Colpa di Frostlass. E quindi lui si porta un premio. Io me ne faccio un altro. Ma io sono a 4 e lui a 1. E ha due Greninja carichi. Quindi io ho estremamente perso. Purtroppo. Purtroppo si. Agge perso. Agge perso. Posso mettere Greninja giusto per. Voglio vedere se troviamo qualche carta. Laida. Ci abbiamo. Poca roba. Perché Driflun defunge dopo. Volevo vedere se riusciamo a mettere Coda Urlante. In qualche maniera. Però anche se faccio Coda Urlante. Lui ha tutti i Pokémon. Che ritirano uno. E guardate che fottuti premi. Due energie. Due energie. E vabbè. Se ritiro poi comunque non ho abbastanza energie. Per fare K.O. O fare cose strane. Quindi vabbè. Attacchiamo. Gli faccio giusto la Kissara da 1. Perché ho visto prima che aveva preso una carta con Greninja. Però ci esce doppio amo. Niente signori. Gli faccio questo K.O. Subiremo. Giustamente l'altro K.O. E va bene. Va bene. Ci prendiamo questi due premi. Che saranno le due energie rimaste. Fatti un'energia lì per aroma. Va bene. Non potevo fare molto. Non potevo fare assolutamente molto. Lacerazione. Torrenziale. Signori. Questo video. È andato. Mazzo che per davvero è molto difficile. Non mi piace. Non mi piace Garden. Non l'ho mai giocato. Non è nel mio cervello. Non penso proprio che lo giocherò più di questo video. Quindi. Fatemi sapere se a voi vi piace Garden. Come lo trovate. Come lo giocate. Perché. Boh. Non riesco. Io vi mando un salutone. Un abbraccione. Se siete arrivati fino a qui con la visione. Commentate con. Iper Gardenio. Iper Gardenio. Noi ci vediamo alla prossima. E che Godenzio sia con voi. Ciao.